Un pezzo dell'orchestra filarmonica campana a proda in Spagna. Il direttore Giulio Marazzina dirigerà l'orchestra sinfonica Iurea Carbonell dell'Auditorium di Leid. Fare il programma dalla celeberrima Quinta Sinfonia di Beethoven e l'overture del barbiere di Siviglia di Rossini alla seconda Sinfonia di Clementi, autore conosciuto soprattutto per essere il padre del pianoforte ma che presenta numerosi di interessanti paralleli con Beethoven e di suoi contemporanei. Eccoci qui in Spagna, a Leida, in Catalunia per questo concerto con l'orchestra Iurea Carbonell che mi ha invitato come direttore ospite per un concerto nella loro stagione concertistica. Per me è davvero un grande piacere, sono molto felice di poter condividere la musica che andremo ad eseguire nello specifico la Quinta Sinfonia di Beethoven, è molto conosciuta, la Seconda Sinfonia di Clementi, meno conosciuta e poi la Celebrim Overture dal barbiere di Siviglia di Rossini. Quindi tanta Italia, tanta passione e buoni auspici per questa condivisione con il pubblico spagnolo e ringrazio tanto l'orchestra di Leida per questo invito. Grazie.